Musica Questo problema è il più importante da affrontare in questo momento storico Io devo andare a lavorare, non mi interessa a caso quello che sta da favore Non è corretto, signori, passatevi Parco Dio, che devi dogli Parco Dio Parco Dio Parco Dio Parco Dio Purtroppo è l'unico modo che ci rimane per farci sentire Perché l'abbiamo provate veramente di tutte Non ci hanno mai ascoltati Il governo ci sta tradendo ed è per questo che siamo qua Parco Dio Parco Dio Parco Dio Parco Dio